Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video dove oggi apriremo delle bustine pokemon come potete vedere ne apriremo 4 e inizieremo da questa e ricordate di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale per altri contenuti simili non riesco mai ad aprirle bene 1,2,3 ok va bene allora stasera mando della tattata di un altro nuovo? si poi si fa pure 1,2 si un altro nuovo mamma ecco vediamo se c'è qualcosa è brutto bene è un pacchetto secondo pacchetto allora vediamo una bella carta no mi sono già spellorata ciao papi ok abbiamo il codice e queste erano le carte guardate non va di che questa non è da parte ok apriamo queste vai vai stavolta ce la posso far aprire almeno un pacchetto 3,4 1,2 manca sia come si chiama vivilon shiny lungo energia via vivere questo era un altro pacchetto nulla di che l'ultimo pacchetto un nuovo di questo ma questo no non è un esercuo aspettate è un po' difficile la situazione prendiamo tutte le carte Aspettate ragazzi Sto togliando il codice Che è un po' Ok Questa è Olo È fortissima Bene Questo è un po' meglio Per il pacchetto Guardate Sanaconda Per la mia carta Nel momento nessuno è leggendario Però wow Questa è bellissima Guardate Lo sbrilluccio Che bella Ragazzi E per questo video Possiamo concludere qui Spero il video vi sia piaciuto Guardate cosa Abbiamo spacchettato Tutto questo E per questo video Possiamo concludere qui Spero il video vi sia piaciuto E ricordate di lasciare un bel mi piace Iscrivervi al canale Per altri contenuti simili Per questo video Possiamo concludere qui Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.